Ciao ragazzi e bentornati su Flash Trendita. Oggi parliamo di Alessandro Basciano, ex concorrente del GFVIP, che è stato al centro di critiche per il suo aspetto fisico dopo essere apparso a Verissimo. Ma cosa gli è successo veramente? Rimanete con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli e la spiegazione dietro il suo aspetto insolito. Sabato 19 ottobre 2024, Alessandro Basciano è stato ospite a Verissimo per parlare della sua relazione con Sofiko Degoni e della loro figlia Sheline. Tuttavia il suo aspetto fisico ha catturato immediatamente l'attenzione dei fan e i social sono stati inondati di commenti. Molti utenti lo hanno trovato irriconoscibile, con il viso molto gonfio e levigato al punto che alcuni si sono chiesti se avesse subito un intervento estetico. Le critiche non sono mancate, diversi fan hanno espresso preoccupazione e qualcuno ha lanciato frecciatine insinuando che Basciano avesse esagerato con i ritocchi. Ma a distanza di qualche giorno è arrivata finalmente una spiegazione ed è stata fornita da Amedeo Venza, esperto di gossip e amico personale di Alessandro. Venza ha chiarito che il cambiamento nell'aspetto di Basciano non è dovuto a interventi estetici, ma al trucco utilizzato per coprire i segni di un recente intervento al setto nasale. Alessandro si è infatti sottoposto a questa operazione per risolvere alcuni problemi di respirazione e il trucco era necessario per nascondere il gonfiore post-operatorio. Nel frattempo, durante l'intervista, Basciano ha parlato della fine della sua relazione con Sofì Codegoni. Nonostante la separazione, i due sono riusciti a trovare un equilibrio come genitori e Alessandro ha detto di poter finalmente vedere più spesso la loro bambina, Céline. Ha anche spiegato che, nonostante l'attrazione tra lui e Sofì sia ancora forte, entrambi hanno bisogno di lavorare su se stessi e risolvere i traumi del passato prima di poter pensare a un eventuale riavvicinamento sentimentale. Questa vicenda ci fa riflettere su quanto spesso giudichiamo troppo in fretta ciò che vediamo sullo schermo. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti! Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessuna novità su Verissimo, GF VIP e tutte le storie più emozionanti dal mondo delle celebrità italiane. Un abbraccio e ci vediamo presto con nuove chicche tutte per voi! Ciao ciao!